Non prendetevela se a volte pubblichiamo articoli o post che non sono in linea con le vostre idee. Il nostro ruolo è anche questo, offrire spunti di riflessione, occasioni di confronto e dibattito. Ogni tanto può succedere, sbagliamo anche noi, non abbiamo problemi ad ammetterlo. Ma in un'epoca in cui i media sono sempre più zerbini di politicanti e multinazionali, alla ricerca del click facile o al soldo di sponsor e finanziatori vari, noi ci teniamo ben stretta alla nostra totale indipendenza, a costo di sembrare a volte antipatici. Non siamo mai scesi a compromessi con nessuno e non cerchiamo consenso. Da sempre cerchiamo invece di dare spazio a voci diverse, di raccogliere punti di vista anche opposti tra loro, di avere una moltitudine di opinioni sui temi trattati. E non sempre siamo d'accordo con i contenuti dei nostri autori o delle persone che intervistiamo, ma tutto ciò che pubblichiamo lo riteniamo meritevoli di attenzione, soprattutto se è in grado di mettere in discussione le nostre convinzioni. Il massimo segno dell'intelligenza è il dubbio, sosteneva un premio Nobel per la letteratura del secolo scorso. Teniamola a mente.